Cominceranno alle 9.15 del mattino in città i festeggiamenti in onore del 76esimo anniversario della Festa della Repubblica in presenza del prefetto di Caltanissette e delle massime autorità civili, militari e religiose. Si partirà con la fanfara dei bersaglieri ad effettuare il percorso da Piazza Garibaldi verso il Palazzo del Governo anche gli alunni di alcune scuole cittadine ed in particolare Leonardo Sciascia, Don Milani, Caponnetto, Vittorio Veneto, Martin Luther King e Lombardo Radice che sfileranno portando il tricolore, si legge nel comunicato della Prefettura, accompagnato dai cartelloni realizzati dagli studenti e riportanti i principi fondamentali della Costituzione. Insieme alle autorità civili e militari il corteo ripartirà intorno alle 9.30 e arriverà al Monumento dei Caduti il dove, dopo il rituale dell'alza bandiera accompagnato dall'inno di Mameli, eseguito dalla fanfara dei bersaglieri e cantato dal coro dell'Istituto Manzoni-Iuvara dal Prefetto insieme al Sindaco e al Comandante Provinciale dei Carabinieri verrà deposta la corona di alloro, il ricordo dei caduti e data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Verranno anche consegnate le onorificenze alla nuova ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana la dipendente dell'Avvocatura dello Stato Antonia Pace e ai cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana i medici Alfonso Averna, Rita Maria Dippolito, Michele Mangione e Giovanni Mazzola nonché Vincenza D'Angeli, insegnante in pensione, Fiorella Falci, professoressa in pensione e giornalista pubblicista il Maggiore Fabio Pasquariello che è stato comandante del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta e Giuseppe Petrantoni, vigile del fuoco in pensione. Infine, dopo la cerimonia lungo il Viale Regina Margherita, dopo il passaggio dei gonfaloni del Libero Consorzio Comunale e dei comuni della provincia e i labari delle associazioni combattentistiche ci sarà lo sfilamento dei reparti delle forze armate.